Innanzitutto benvenuti a tutti. Per allacciarci alla puntata precedente volevo citare l'esperienza che abbiamo avuto a Cracovia lo scorso venerdì quando abbiamo assistito all'esecuzione dei pianeti di Holtz e lì proprio abbiamo avuto l'ennesima conferma di come l'immagine sonora, soprattutto in un contesto del genere dove si suona una musica a forte intensità, appunto come questa immagine sia di difficile collocazione spaziale. Riallacciandosi alla puntata introduttiva in effetti quello che dici corrisponde perfettamente a quello che abbiamo accennato. Ho anche cercato in quell'occasione di farti sedere in diverse posizioni per poter sentire nelle diverse posizioni in quel teatro come dal vivo l'immagine sonora percepita abbia delle caratteristiche peculiari e molto spesso lontane rispetto a quello che si può immaginare o desiderare o supporre che sia l'immagine sonora riprodotta da un impianto stereo. Così come se ti ricordi tu ho fatto notare il fatto che i microfoni che avevano predisposto per la registrazione erano stati messi molto vicini all'orchestra, praticamente sopra la testa del direttore c'erano tre microfoni disposti in modo panoramico per riprendere l'orchestra. Quindi chiediamoci se i microfoni utilizzati per la ripresa sonora sono messi così in prossimità, delle volte è utopico pensare, desiderare, immaginare o supporre che l'immagine sonora di un'orchestra riprodotta da un impianto stereo si adegui al nostro modello mentale, quindi magari desideriamo che sia molto esteso in profondità. Bisogna essere consapevole di ciò che accade nella realtà. Detto questo mi sentirei di introdurre due aspetti importanti. Il primo aspetto è legato all'entità di quelle che sono le informazioni ambientali presenti in una registrazione. Direi che in una registrazione di eccellente qualità le informazioni ambientali rispetto all'ampiezza generale del segnale musicale possiamo considerare che espresse in potenza acustica siano dell'ordine di qualche parte per milione riferita alla pressione sonora generale di tutto il programma musicale. Stiamo parlando quindi di entità molto piccole. Essendo così piccole è molto facile che all'interno della catena sonora vengano disturbate, contaminate e vengono alterate. Conseguentemente a questo c'è anche un aspetto molto importante e non vorrei in qualche modo urtare la suscettibilità di chi ci sta ascoltando. Ovvero considerando tutti i fenomeni coinvolti la probabilità che all'interno di una catena di ascolto in un ambiente domestico una persona abbia sperimentato effettivamente cosa può essere la massima espressione di una scena sonora realistica e coinvolgente direi che questa probabilità è molto bassa, quasi trascurabile. Ovvero si può partire dall'ipotesi che nel proprio ambiente di ascolto l'utente medio non abbia mai sperimentato quello che può essere e quello cui può portare a livello di coinvolgimento e di sensazione di essere presente laddove è stato eseguito il brano musicale, non abbia mai avuto questa esperienza in modo compiuto. Ma non avendo mai avuto questa esperienza è anche facile essere disorientati eventualmente nel agire sulla catena d'ascolto per ottenere quel risultato, nel senso che non sapendo cosa possiamo ottenere è difficile muoverci in quella direzione. Per certi versi è un po' come un daltonico che debba agire sui colori per ottenere certe soluzioni cromatiche, gli è praticamente quasi impossibile. Per questo già da tempo esorto le persone che in qualche modo vogliono approfondire questo tema a fare un'esperienza sensoriale parallela ma molto significativa e molto istruttiva. Mi sto riferendo agli stereogrammi. Qualcuno si ricorderà che negli anni 80-90 erano delle immagini che erano abbastanza diffuse. Si tratta di immagini che sono state codificate con delle tecniche laser. Apparentemente dall'esterno è un'immagine che non ha particolare significato nel senso che non si capisce che cosa voglia dire, un po' come se fosse un quadro astratto dove vediamo semplicemente un insieme di forme che si ripetono e di colori. Ma agendo sullo sguardo in una ben precisa modalità, a un certo punto si manifesta all'interno di quella che esternamente è un'immagine del tutto priva di significato, la presenza in tre dimensioni di un'immagine nascosta all'interno di quello. Nel momento in cui si ha la percezione dell'immagine che era nascosta dentro non si ha nessun dubbio a riguardo. Uno non può dire ma mi sembra di vederla forse, no, è così netta la percezione che si commuta da una modalità di visione a un'altra modalità di visione. Ecco, sarebbe interessante che chi vuole approfondire il discorso della scena sonora faccia un'esperienza visiva a riguardo, proprio perché si può ricollegare poi a quell'esperienza sensoriale e immaginare dal punto di vista sonoro che a un certo punto agendo sulla catena di ascolto si può arrivare a avere l'equivalente di percezione acustica sonora simile a quella della percezione della profondità e della identità dell'oggetto presente nelle tre dimensioni nascosta in quell'immagine. Un altro aspetto su cui terrei mettere bene in evidenza l'importanza è questo. Riallacciandoci in parte alla puntata del canale su cui abbiamo trattato il tema della direzione sonora, è importante comprendere questo aspetto, ovvero di che scena sonora stiamo parlando? Perché è come se ci fosse un bivio, ovvero stiamo parlando della scena sonora e dell'immagine sonora e dei rapporti geometrici delle varie sorgenti che sono contenute nella registrazione di origine o stiamo parlando di una scena sonora che in qualche modo arbitrariamente vogliamo ricostruire nel nostro locale di ascolto a prescindere da ciò che effettivamente è contenuto nella registrazione che stiamo ascoltando? Sembra un dettaglio di secondaria importanza ma non lo è assolutamente perché ho assistito in tantissimi casi a delle persone, degli appassionati che hanno inseguito la seconda di queste opzioni in qualche modo convinti però di ricercare la prima. Se avrete modo di vedere l'immagine 3D contenuta in uno stereogramma potete anche meglio comprendere cosa vuol dire andare a ricercare l'immagine sonora e la scena sonora presente nella registrazione originale. Ecco, tutte le considerazioni che noi faremo e che abbiamo fatto nella puntata precedente sono relative a questa prima soluzione, a questa prima strategia. Nel secondo caso direi che si tratta eminentemente di gusti personali per cui lì non è possibile dire niente che possa essere di utilità generale. Ok, finalmente entriamo nel vivo, cioè quali sono gli elementi che intervengono ad alterare, a modificare pesantemente la scena sonora? Direi che essenzialmente ci sono quattro fenomeni attraverso cui la scena sonora percepita viene modificata all'interno di una catena d'ascolto attraverso il passaggio nelle varie parecchietture. Direi che il primo elemento è come se ci fosse una sorta di soglia al di sotto della quale i segnali non sono più riprodotti. Come abbiamo visto prima, le informazioni ambientali sono molto piccole, dell'ordine di qualche parte per milione. Quindi, se all'interno di una catena d'ascolto ci sono fenomeni fisici per cui si determina come un livello di soglia al di sotto del quale le informazioni vengono ignorate. Possiamo fare un parallelo, ad esempio, con le immagini video dove c'è alla volta una soglia di nero, non particolarmente estesa, per cui tutte le immagini che hanno un grigio scuro sotto una certa soglia diventano nere. Ecco, all'interno di una catena d'ascolto, molte apparecchietture, sia da parte delle sorgenti che delle amplificazioni, contengono internamente un meccanismo di questo genere, per cui informazioni, micro dettagli al di sotto di una certa entità, è come se scomparissero. L'altro fenomeno fisico che interviene è un fenomeno che possiamo dire di mascheramento, ovvero all'interno delle apparecchietture vengono generati, per intermodulazione, per distorsione, per tutta una serie di fenomeni fisici, dei segnali di entità paragonabile a quella dell'informazione ambientale, che in qualche modo mascherano o interferiscono con queste informazioni, per cui sono sempre presenti in uscita, ma vengono alterate nella loro percezione attraverso meccanismi di interazione o di mascheramento con dei fenomeni spuri prodotti all'interno. Un terzo fenomeno che interviene è quello della deformazione delle informazioni ambientali, ovvero nel transito attraverso la catena d'ascolto e anche in questo caso soprattutto delle elettroniche, ma talvolta anche da parte dei feed e crossover di un diffusore, le informazioni ambientali vengono deformate nei loro rapporti temporali e di fase. Questo comporta all'ascolto una repercussione in termini di differenziazione e di deformazione dei rapporti prospettici, per cui l'immagine sonora magari si deforma in larghezza, si può restringere in profondità o la collocazione spaziale assume dei connotati che sono diversi rispetto a quelli di origine. C'è poi un ultimo, un quarto fenomeno, dovuto al fatto che in alcuni casi la catena sonora è come se inventasse di sua iniziativa delle informazioni ambientali o segnali sonori che vengono scambiati per informazioni ambientali, che in qualche modo il nostro orecchio riconosce come tale e ci danno la sensazione di un'immagine sonora di una certa tipologia, la quale però è completamente scollegata rispetto all'informazione ambientale di origine presente nella registrazione. Questo capita abbastanza spesso con i diffusori acustici, i quali per tutta una serie di motivi alle volte generano dei campi sonori all'interno del nostro ambiente del tutto scorrelati rispetto a quello che rappresenta nella registrazione di origine. Ok, quindi ora mi viene da chiederti, tutti gli elementi della catena d'ascolto hanno la stessa ripercussione, cioè sono tutti ugualmente responsabili? Ugualmente responsabili direi di no. Se dovessimo tentare di fare una scala di priorità potremmo dividere in 5 macro categorie. Nella prima metterei i diffusori acustici, nella seconda metterei le sorgenti, soprattutto le sorgenti digitali, nella terza categoria metterei le elettroniche di amplificazione, preamplificatori e amplificatori di potenza, nella quarta i cavi in generale e nella quinta gli accessori dell'impianto. Uno, due, tre, quattro, cinque per come sono stati esposti in qualche modo corrispondono a una sorta di gerarchia di influenza, partendo da quello più influente a quello teoricamente meno influente. A lato pratico però bisogna stare molto attenti perché ci possono essere situazioni dove anche un semplice accessorio può modificare molto pesantemente questa situazione. Ecco, per cui non prendiamo questa scaletta come se fosse qualcosa di sempre valido. Mi sembra incredibile il fatto di non aver citato l'ambiente d'ascolto. Perché? Allora, volutamente non ho citato l'ambiente d'ascolto per due motivi. Innanzitutto, per certi versi, non fa parte degli oggetti fisici che costituiscono la nostra catena di ascolto. E dall'altra parte, perché di questo aspetto sicuramente molto importante, parleremo nella terza puntata, dove, come abbiamo accennato, daremo dei suggerimenti pratici e operativi. Ottimo, quindi cominciamo dai diffusori? Sì, allora, iniziando dai diffusori, ritengo importante fare una premessa. Ovvero, se prendiamo a qualunque catalogo di prodotti ad affedeltà e cominciamo a guardare i diffusori presenti sul mercato, cominciando dalla lettera A, probabilmente arriviamo alla lettera B, richiudiamo il catalogo, lo mettiamo via e rimandiamo un altro giorno la scelta del nostro diffusore. Ovvero, sul mercato esistono così tanti diffusori, apparentemente diversi per Foggia, prestazioni tecniche, filosofie, prezzi, eccetera, 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 per cui orientarsi su quel mondo diventa estremamente difficile e molto complicato. Per quello che riguarda l'attitudine di un diffusore a riprodurre correttamente una scena sonora, direi che la situazione è molto complessa. Nel senso che, per quello che riguarda la mia esperienza personale, fatta di innumerevoli ascolti sia nel nostro ambiente che nelle varie fiere internazionali, nei vari negozi, eccetera, direi che la probabilità di intercettare un diffusore che abbia una prestazione eccellente sotto questo aspetto è quasi trascurabile. Non dico che sia più facile vincere il Super Renault 8, ma per certi versi quasi. Ciò che rende ancora più complicato l'individuazione di questi diffusori è il fatto che non esistono delle certezze tecniche o costruttive che ci possano in qualche modo orientare in questa scelta. Ovvero, è come se tutti gli aspetti tecnici e costruttivi progettuali potessero essere delle condizioni che di per sé non sono né necessarie né sufficienti. Può sembrare una cosa assurda ma, per esempio, sia comunemente portato a pensare che un diffusore che abbia una corretta risposta in fase, una corretta risposta temporale, abbia delle prestazioni di ricostruzione della scena sonora molto interessanti. A lato pratico devo dire che purtroppo non è così, nel senso che esistono un certo numero di diffusori che apparentemente hanno dato molta attenzione a questo parametro, ma poi quando li vai a ascoltare uno si chiede ma non trovi una corrispondenza effettiva nelle loro prestazioni sonore. Questo non vuol dire che dobbiamo completamente scartare o non tenere in considerazione appunto la risposta temporale o l'allineamento delle fasi. Tant'è che ci sono moltissimi diffusori sul mercato, anche di grande pregio, di grande blasone, di prezzo molto alto, nei quali purtroppo il progettista non ha dato attenzione a questi parametri, per cui quando li andiamo ad ascoltare magari a livello timbrico, a livello dinamico, a livello di risposta in frequenza, di distorsione, hanno delle caratteristiche che sono eccellenti. Ma se noi ci sediamo di fronte alla cadena d'ascolto e chiudiamo gli occhi cercando di immaginare una collocazione di ciò che stiamo ascoltando, lì diventa veramente quasi un atto di fede. questo purtroppo in tanti casi è dovuto al fatto che alcuni progettisti seguono una teoria per cui a loro avviso l'orecchio umano non è sensibile né ai reporti di fase né agli allineamenti temporali. L'esperienza pratica però contraddice questa ipotesi. Esistono poi un certo numero di diffusori, sarete andato a dire specialmente quelli di derivazione di origine americana, nei quali il progettista in qualche modo cerca di infondere al diffusore l'attitudine a riprodurre una particolare scena sonora. Per cui quando si ascoltano questi diffusori magari all'inizio si rimane ammagliati da una scena sonora molto ampia e stesa in tutte le dimensioni, ma facendo degli ascolti più approfonditi ci si rende conto poi che questa percezione innanzitutto rimane costante con qualunque brano noi mettiamo e poi non è legata all'acustica originale presente nella registrazione. Quindi è come se il diffusore di sua iniziativa inventasse una scena sonora ma completamente avulsa dalla realtà di origine. Esiste poi un'ultima categoria di diffusori, purtroppo non molto ampia a livello di numeri, con i quali una volta inseriti nel nostro ambiente d'ascolto ci danno una sensazione di essere immediatamente trasportati nel luogo dove è stata fatta la registrazione è avere davanti a noi un ologramma in tre dimensioni molto realistico di dove sono collocati vari strumenti e la sensazione immediata che viene nei primi secondi di ascolto è quella che può sperimentare alla vista quando finalmente dopo esserci un po' affaticato gli occhi le prime volte davanti uno stereogramma riusciamo a cogliere cosa c'è dentro. Una sensazione di stupore di grande gratificazione. Purtroppo, come dicevo prima, sono pochi i diffusori che riescono a fare questo. Ok, ma tu al lato pratico avresti qualche suggerimento da dare agli ascoltatori su come trovarli questi diffusori? Allora, su come individuare questi diffusori, purtroppo, come ho già accennato prima, è molto difficile rispondere nel senso che le condizioni che servono non sono di per sé né necessarie né sufficienti. Quindi non è analizzando solo alcune caratteristiche tecniche o di fattezza costruttiva del diffusore che possiamo arrivare alla certezza di quel risultato. Come sempre è importante e sarebbe importante provare il diffusore nel nostro ambiente d'ascolto e lì verificare che cosa accade. Relativamente diffusore però mi sentirei di dire che il tema è un tema molto vasto, molto più articolato rispetto a quello che in questo momento abbiamo accennato. Per cui mi piacerebbe dedicare una puntata o due proprio su questo tema. Mi sentirei però di raccontare un piccolo aneddoto. Qualche settimana fa è venuto nel nostro ambiente d'ascolto un cliente che era intenzionato ad acquistare o a provare come abbinamento una nostra elettronica. Sentendoci per telefono aveva formulato l'ipotesi di voler cambiare il diffusore perché il diffusore aveva già un certo numero di anni e riteneva che i diffusori moderni fossero più performanti. Io in qualche modo ho imposto alla persona di portare il suo diffusore. Stiamo parlando di un diffusore, un bookshelf costruito alla fine degli anni 80, inizio anni 90. È stato veramente interessante vedere come quel diffusore che adesso si può acquistare con meno di 1000 euro la coppia, in realtà abbia riempito la stanza con un suono molto vicino a livello di ricostruzione della scena sonora e di sensazione di ambienza in una maniera quasi incredibile. Decisamente molto meglio di quello che possono fare diffusori odierni anche molto più costosi. Per cui rimane veramente difficile dare un criterio generale di scelta. Ok ho capito, quindi per i diffusori è evidente il fatto che sia necessario provarli nel nostro ambiente. E invece proseguendo con le sorgenti digitali? Per le sorgenti digitali la situazione purtroppo non è delle migliori, nel senso che le sorgenti digitali attualmente presenti sul mercato, a livello di capacità di ricostruire una scena sonora, una sensazione di ambienza e una sensazione di presenza nell'ambiente e nell'evento originale, sono purtroppo abbastanza latitanti. Al di là delle prestazioni tecniche, a livello di rumore di fondo, di distorsione, eccetera, eccetera, sotto questo aspetto è più facile trovare una sorgente sonora digitale che suoni tra virgolette bene o in modo corretto fra quelli prodotti al fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Anche per questo motivo in norma abbiamo deciso di realizzare una piattaforma di conversione nostra proprietaria, anche per migliorare in modo sostanziale questo aspetto. Invito quindi le persone eventualmente andare a rivedere la puntata di presentazione dell'ADAC norma. Il meccanismo fisico che accade è quello che abbiamo descritto all'inizio come se ci fosse una sorta di soglia al di sotto dalla quale le informazioni non vengono più riprodotte, non vengono più prese in considerazione. Apparentemente è una contraddizione logica nel senso che se andiamo a vedere il rapporto segnali rumori delle moderne sorgenti digitali, arriviamo tranquillamente a dei numeri che sono molto alti, 110-120 db, piuttosto che a spettri di distorsione che emergono da un tappeto di rumore di fondo di meno 140-150 db. Per cui è difficile immaginare che esista una sorta di livello al di sotto del quale la sorgente non prende in considerazione i dettagli, i dettagli sonori, i dettagli musicali. Ma a lato pratico, all'ascolto, è come se ci fosse proprio un meccanismo di questo genere. È come se le informazioni ambientali sparissero, non vengono più prese in considerazione, non vengono più riprodotte. A lato pratico si assiste a una ricostruzione prospettica della sione sonora che è molto povera, poco estesa nelle varie dimensioni, molto piatta. In certi casi i protestisti hanno cercato di compensare questi aspetti agendo in alte direzioni, ad esempio mettendo degli stadio di uscita a valvole per cercare di infondere al suono una maggiore caratteristica qualitativa. Ma al lato pratico, se andiamo a ascoltare il risultato sonore, ci rendiamo conto che alla fine ci troviamo però la somma degli effetti collaterali di una soluzione tecnica unita agli effetti collaterali dell'altra soluzione tecnica e non abbiamo per nulla risolto i problemi di origine. Ad esempio, se ti ricordi, proprio qualche giorno fa abbiamo avuto un'esperienza a riguardo. Eravamo presso quell'addetto ai lavori che ci aveva chiesto la possibilità di ascoltare una delle nostre sorgenti digitali inseriti nella sua catena. Cortesemente ci ha invitato a fare un ascolto insieme e abbiamo portato dei nostri brani musicali, lui ci ha proposto dei brani musicali suoi. Il risultato sonoro percepito era molto interessante, anche e soprattutto sotto l'aspetto dell'articolazione dei vari piani sonori e la sensazione di essere presente all'evento originale. L'ascolto, se ti ricordi, è andato avanti per circa un'oretta. Poi, per curiosità reciproca, ho chiesto se ci poteva fare ascoltare lo stesso impianto con la sorgente che lui aveva utilizzato in precedenza. Anche in quell'occasione abbiamo ottenuto l'ennesima conferma di quello che ho appena affermato, ovvero l'immagine sonora è collassata, è diventata molto piatta, piccola fra i diffusori e come se si osservasse qualcosa da una distanza molto grande senza esserne coinvolti, senza essere dentro in ciò che accade. Detto per inciso, puro dettaglio tecnico commerciale, l'assorgente che abbiamo utilizzato per fare un confronto, l'assorgente che rispetto al nostro convertitore con l'ADA costava circa sei volte tanto. E invece se parliamo del preamplificatore che spesso viene identificato, viene visto un po' come l'elemento che determina la via, quello che costituisce un po' il timoniere dell'impianto? Per quello che riguarda il preamplificatore, in teoria la situazione sembrerebbe essere molto più agevole, in quanto il compito teorico di un preamplificatore è tutto sommato abbastanza semplice. Avendo come segnale d'ingresso un segnale già analogico e dovendo dare in uscita un segnale analogico, senza dover pilotare un carico, quindi non dovendo erogare particolare corrente o potenza in uscita, si potrebbe essere indotti a pensare che il suo ruolo, tutto sommato, sia abbastanza semplice e non ci siano molte minacce o molte insidie legate a questo ruolo, ma che al più magari possa modificare un po' l'estetica sonora a seconda dei gusti della persona. In realtà la situazione direi che è subdola, nel senso che molto spesso, spesso in preamplificatori anche di alto livello, possiamo assistere a una complicazione costruttiva in realtà senza ragione d'essere, ovvero circuitazioni molto sofisticate con un numero di componenti sul percorso del segnale molto ampio, molto vasto. Se poi abbiamo la sfortuna di incappare in un preamplificatore dove il controllo di volume, anziché essere realizzato in modo analogico, è realizzato in modo elettronico con dei circuiti integrati che controllano e regolano il volume, la probabilità che l'immagine sonora e la collocazione spaziale degli strumenti ne venga in qualche modo compromessa è abbastanza alta e questo in qualche modo è un comportamento inaspettato. Ma abbiamo verificato molto spesso, in situazioni le più variegate, come il ruolo del peramplificatore che, ripeto, teoricamente potrebbe sembrare molto semplice e poco, fra virgolette, pericoloso, in realtà manifesta un'influenza abbastanza nefasta su molti parametri, ad esempio quello della ricostruzione prospettica. Ricorderai, per esempio, che ormai sarà circa un anno, c'è capitato di ritirare un preamplificatore a valvole, un preamplificatore di un marchio molto importante, molto blasonato, considerato praticamente da tutti gli eodofili un po' come un'icona, quindi un'equazione di quell'oggetto caratteristiche sonore eccellenti. In realtà ti ricorderai molto bene che il livello di caratteristiche sonore, sotto certi parametri, era quasi imbarazzante, tant'è che spesso in laboratorio mi chiedevate di spegnere quell'apparecchio perché era quasi impossibile convivere con una estetica sonora così povera. E anche sotto l'aspetto della ricostruzione prospettica, la performance era assai scarsa, l'immagine sonora molto piccola, per nulla estresa in nessuna delle tre dimensioni e la sensazione di essere presente nell'ambiente originale era totalmente assente. Passando invece agli amplificatori di potenza è abbastanza facile immaginare che avendo un compito molto più gravoso l'influenza, il risultato finale, possa essere abbastanza consistente. Per certi versi l'influenza che hanno è dell'ordine di grandezza che hanno i preamplificatori, ma in questo caso la nostra mente è meglio predisposta a accettare che ci possa essere una differenza. Infatti se pensiamo cosa deve fare un amplificatore, il suo lavoro è abbastanza complicato. È vero che ha già a disposizione un segnale analogico in ingresso, ma innanzitutto deve aumentarne l'ampiezza anche in modo consistente. Deve erogare corrente al carico, erogare potenza al carico, deve controllare il movimento degli autoparlanti all'interno del diffusore, quindi controllare le forze contro le elettromotrici generate nel loro movimento dagli autoparlanti e in un certo numero di casi deve anche avere a che fare con dei filtri crossover con delle componenti reattive molto importanti, per cui ci sono delle extra correnti e delle extra tensioni che vengono generate e che continuano a essere scambiate fra amplificatore e diffusore. Quindi in questo contesto è abbastanza facile prevedere che a seconda di come l'amplificatore è in grado di assolvere questi compiti, possa avere delle ripercussioni sul risultato finale di ascolto e quindi anche nella ricostruzione dell'immagine sonora. Aggiungerei anche due elementi che caratterizzano peculiarmente le amplificazioni. Innanzitutto le circuitazioni che tipicamente vengono utilizzate all'interno di un amplificatore, dovendo avere delle tensioni molto alte, delle correnti in gioco molto alte, sono per forza di cose più complesse e meno predisposte a trattare segnali molto delicati, per cui è più facile che le informazioni ambientali in qualche modo vengano corrotte, vengano compromesse in questo lavoro. L'altro aspetto molto importante, spesso sottovalutato, è il fatto che in un amplificatore convenzionale, direi nel 99 per cento dei casi, la sezione di alimentazione è costituita da un trasformatore, ponte rettificatore di evo e condensatore di livellamento. Questa topologia di alimentazione genera inevitabilmente delle spuri e delle armoniche legate alla rete elettrica. Queste spuri e queste armoniche alla fine intermodulano con il segnale audio principale creando un comportamento in bassa frequenza e soprattutto nella gamma medio-bassa abbastanza critico. È esperienza comune constatare come amplificatori diversi abbiano una risposta nella gamma bassa e nella gamma medio-bassa, fra di loro alle volte anche molto diversa. Ecco, questa risposta nella gamma bassa e medio-bassa si ripercuote inevitabilmente sull'attitudine che può avere l'amplificatore a ricreare un'immagine sonora molto ampia e estesa nelle tre dimensioni. La sensazione di essere condotti nell'ambiente originale è molto influenzata e molto penalizzata dalle prestazioni e delle caratteristiche dell'alimentazione, ovvero tutti questi fenomeni parassiti si ripercuotono in modo evidente sulle caratteristiche sonore in quella regione dello spettro. Proprio per questo motivo, avendone compreso l'importanza e gli effetti, abbiamo introdotto già da anni un amplificatore monofonico dotato di alimentazione completamente stabilizzata, ovvero anche gli stadi di uscita sono completamente stabilizzati con una topologia che riesce a avere una tensione di rumore estremamente bassa, grandissima velocità di regolazione di corrente. Tutte queste caratteristiche tecniche alla fine si ripercuotono nella capacità che ha questo amplificatore, sto parlando del PA 160 MR, alla capacità di riprodurre i segnali di ambienza in un modo quasi disarmante. La sensazione di essere presenti laddove è stata fatta la registrazione quando si ascolta una musica attraverso una coppia di quegli amplificatori è veramente notevole. Beh sì, in effetti anche io ho imparato a riconoscere molto bene quando sono collegati i 160 MR, quando si ascolta la musica con i mono, anche se lavoro insomma due o tre stanze più in là rispetto al punto di ascolto. Ma tornando al tema della nostra puntata, in effetti abbiamo avuto tantissime esperienze di ascolto con amplificatori che hanno risultati eterogenei, molto eterogenei e qualcuno di primo acchitto può risultare persino ammaliante. Sì, qualcuno può risultare molto ammaliante. Mi piacerebbe raccontare un aneddoto che è capitato un po' di anni fa. Avevo avuto l'occasione di ascoltare un amplificatore, del quale non è importante fare il nome perché non è significativo quale sia, direi solo che è un amplificatore di scuola americana, anche perché nella scuola americana hanno la tendenza a fare amplificatori che hanno certe caratteristiche di ricostruzione ambientale e di geometria della scena sonora. Comunque, tornando a quell'ascolto, mi aveva stupito il suono in termini di capacità di collocare nello spazio, anche in profondità, le singole sorgenti sonore, ma soprattutto la capacità di circoscrivere e di sentire quasi l'aria che separava un esecutore dall'altro, anche fra un esecutore e l'altro dietro lo stesso esecutore, come se avesse un onogramma in tre dimensioni particolarmente vivace, particolarmente vivido. In quel particolare ambiente, in quel particolare setup, cambiando anche diversi amplificatori, il risultato sonoro era totalmente diverso, quindi in qualche modo quell'oggetto rappresentava una evidente anomalia. Il risultato era molto intrigante sotto l'aspetto della percezione sonora di quel particolare parametro, tant'è che la curiosità mi è rimasta nella testa e di poter comprendere e analizzare meglio questo aspetto. Non avendo più avuto l'opportunità di fare in quel contesto altri ascolti, alla fine decisi di acquistare quell'oggetto. Dopo averlo acquistato e ve l'ho portato nel nostro ambiente di ascolto, anche nel nostro ambiente di ascolto ho verificato una caratteristica molto peculiar a livello di ricostruzione prospettica, ma non riuscivo a capacitarmi di una cosa, ovvero analizzando dal punto di vista tecnico le soluzioni che il progettista aveva implementato, in qualche modo andavano a contraddire tutte le mie ipotesi su come fare un amplificatore che fosse rispettoso dalla verità musicale. Quindi da una parte c'era una sensazione di ascolto particolarmente intrigante, dall'altra parte c'era un'analisi tecnica dell'oggetto che mi lasciava per certi versi abbastanza perplesso. Devo dire che per venire a capo della situazione ci ho messo un po' di tempo. Il tempo che è servito per ascoltare la musica in un modo meno coinvolto al singolo parametro, ovvero cominciando ad ascoltare in modo più distaccato, sono emersi un certo numero di difetti di riproduzione sonora che questo oggetto aveva. Anche ad esempio il modo di porgere la gamma bassa e medio bassa era molto particolare, direi poco aderente alla verità musicale che possiamo sperimentare quando ascoltiamo quegli strumenti da il vivo. Insomma per farla un po' breve alla fine sono riuscito a capire che cosa faceva quell'oggetto, ovvero non sono in grado di dire se volontariamente o come incidente di percorso quell'oggetto in qualche modo deformava i rapporti prospettici, ma questa sensazione di 3D particolarmente spinto, soprattutto in profondità, la profondità che era quasi inusitata. Infatti mi sono chiesto tante volte ma quando dal vivo posso sentire con una tale precisione il suono essere collocato molto lontano? In realtà mai. Quando è collocato molto lontano non abbiamo la capacità di percepire esattamente dov'è. Quindi tornando a quello che stavo dicendo prima, le caratteristiche tecniche di questo oggetto in qualche modo deformavano la percezione della loro gamma 3D e poi andavano a avere delle ripercussioni abbastanza pesanti su molti altri aspetti sonori. Come dicevo prima la gestione della gamma medio bassa era decisamente innaturale. Anche a livello di grana e di fluidità di ascolto c'era qualcosa che non tornava. Quindi messo sui piatti della bilancia il fascino momentaneo di quel particolare aspetto della ricostruzione dell'immagine sonora è messo sul piatto della bilancia dopo qualche mese di ascolto. Qual era lo scotto che bisogna pagare per avere quello? Non ho avuto nessun dubbio nel ritenere l'esperimento chiuso. Ma questo può essere significativo perché sul mercato esistono un certo numero di oggetti che non saprei dire se per volontà precise di chi le ha costruiti o progettati o come effetto collaterale di alcune scelte tecniche riescono a dare un'immagine sonora particolarmente intrigante. Ma consiglierei a tutte le persone che in qualche modo possono entrare in contatto con esperienze d'ascolto di questo genere di chiedersi immediatamente quanto mi costa quel singolo aspetto. Ovvero in quali altri aspetti poi quell'oggetto o con insieme di oggetti mi fa pagare quella particolare prestazione? perché in ultima analisi non può essere realistica. Deve essere per forza di cose introdotte artificialmente. E per quanto riguarda i cavi, onestamente ce ne sono così tanti e di così tanti tipi e fogge che non saprei davvero come orientarmi. Condivido il tuo disappunto, in qualche modo il tuo disorientamento, nel senso che tutti possiamo constatare come sul mercato sono presenti uno tale numero, varietà e foggia di cavi che il povero o ricco appassionato si trova quantomeno disorientato al momento dell'acquisto. Venendo un po' più nel merito della ripercussione che possono avere i cavi all'interno dell'argomento che stiamo trattando, individuerei due categorie. Se partiamo dai cavi di alimentazione, possiamo dire che il loro effetto in qualche modo è simile a quello che accade quando in una catena di ascolto cerchiamo la fase corretta, dove per fase corretta intendo cercare fra le n combinazioni possibili del verso di alimentazione di tutti gli apparecchi coinvolti, quale sia quello che alla fine dà il comportamento migliore. Il comportamento migliore si evince soprattutto a livello di resa della siena sonora, quindi cavo di alimentazione molto spesso ha un effetto di deformare o alterare la siena sonora come dimensione e come rapporto prospettici, a meno l'influenza sulla sensazione di essere presenti nell'ambiente. Se invece prendiamo in analisi i cavi di interconnessione e i cavi di collegamento con i diffusori, tendenzialmente possiamo caratterizzare il loro comportamento come più o meno sottrattivo. Cosa intendo con questo? Intendo dire che a seconda della tipologia di cavo, quindi il tipo di materiale che viene utilizzato o la geometria o tutti gli altri parametri in che in qualche modo intervengono in un cavo, possiamo assistere al fatto che la percezione dell'ambiente originale e tutte le informazioni che servono a contribuire nella localizzazione delle varie sorgenti diventa sempre più scarsa, per cui sottraendo informazioni ambientali andiamo alle volte verso cavi i quali riescono a annullare quasi completamente sia la sensazione di essere presenti nell'ambiente che di avere una relazione prospettica fra i vari segnali. Non è infrequente trovare cavi che hanno alla fine un'influenza sulla siena sonora tale da renderla completamente piatta, quasi una linea che congiunge i due diffusori e tutto quello che in qualche modo era legato alla percezione dello spazio viene perso. Può sembrare quasi misterioso questa cosa perché se pensiamo a un amplificatore o un pre o una sorgente digitale la nostra mente ha più facilità a comprendere come possa accadere questo. In un cavo che tutto sommato anche nel peggiore dei casi è un eccellente conduttore elettrico è più difficile immaginare che l'influenza possa essere così nefasta, ma purtroppo l'esperienza empirica porta a constatare questo fatto. All'inizio della puntata hai citato i supporti e gli accessori, anche questi sono tanto importanti? Direi proprio di sì, nel senso che più che essere importanti alle volte sono, usando un termine che ho utilizzato precedentemente, subdoli. Ovvero può capitare, e non è infrequente che capiti, che il tavolino su cui poggiamo un'elettronica o lo stand sul quale mettiamo il nostro diffusore da scaffale, piuttosto che il vincolo a terra in un diffusore da pavimento, abbiano una ripercussione sulla capacità di tutta la catena di rendere una corretta ricostruzione spaziale molto più importante di quella che si potrebbe immaginare. E questo perché questi componenti alla fine intervengono sulla gestione delle vibrazioni, delle micro vibrazioni, le quali poi si riflettono anche su questo parametro. Ti ricordi qualche giorno fa abbiamo fatto delle prove su un diffusore che avevamo qua in laboratorio? Come, cambiando il materiale interposto fra il diffusore e lo stand, potesse cambiare in modo veramente consistente, quasi incredibile se non fosse stato presente ad ascoltare, la capacità di tutto il sistema di acquietare lo spazio e rendere lo spazio molto più facilmente leggibile e una sensazione di essere presente senza sforzo nella registrazione, quasi incredibile pensando che stavamo agendo solo su dei componenti interposti fra il diffusore e lo stand. Quindi invito a porre molta attenzione a queste cose perché potrebbe essere che abbiamo migliorato tutto il resto e poi inconsapevolmente abbiamo un collo di bottiglia in una situazione alla quale non abbiamo dato l'importanza che invece meritava. Come ultima considerazione, prima di chiudere, facendo la premessa che non ho personalmente nessuna compartecipazione in ditte o attività che servono per creare degli stereogrammi, inviterei comunque chi ha seguito questa puntata e magari che non conosce la tecnica degli stereogrammi approfondirla in qualche modo esercitarsi nel cogliere l'immagine che è nascosta all'interno di queste immagini. Questo perché ci sarà molto utile nella prossima puntata quando entreremo più in dettaglio nell'atto pratico di ciò che ognuno può fare nella sua catena d'ascolto. E insisto perché se non c'è la memoria di un'esperienza sensoriale che faccia comprendere la differenza che può esistere fra rimanere a osservare una cosa in superficie e una volta che invece c'entri dentro a capire che può essere molto diversa, quindi le potenzialità nascoste in una certa situazione, sarà molto difficile poi trovare la determinazione, l'impegno, la volontà e la tenacia nell'agire sulla nostra catena d'ascolto. Se invece abbiamo l'idea e la convinzione che esiste un miglioramento tangibile che possiamo fare, questo ci può essere da sprono nell'agire con maggiore efficacia. Beh, grazie mille. Grazie a voi.